benissimo oggi insieme andiamo a vedere due cose una modalità nuova di agire ed interagire con il mondo dei gaming con le pedane multidirezionali e quelli che sono i pricing ovvero quelli che sono i prezzi che le persone sono disposte a spendere in media in italia per avere un'esperienza del genere ma ancora prima vi illustro un aspetto interessante che quello del finanziamento tanti imprenditori come me e come voi sicuramente tengono quando bisogna fare un investimento tendono a pensare quello che hanno disponibile quello che possono recuperare con i canali tradizionali mentre quello che oggi andiamo a vedere qualcosa che spesso non viene considerata e io chiamo lo svantaggio sleale ossia la possibilità di poter accedere a quelli che sono i fondi europei messi a disposizione in maniera diretta o indiretta dall'italia per l'italia sapete tutti quanti che il pnr ci dà circa 220 milioni di euro giusto sulla mano chi lo sa ok benissimo e sapete probabilmente anche che questi soldi verranno distribuiti grazie a società tipo una delle mie che si chiama sp studios che si occupa di finanza agevolata noi perché lo facciamo perché siamo bravi perché abbiamo creato un software siamo completamente digitali e abbiamo creato un network di progettisti che sostanzialmente seguono la richiesta della domanda di finanziamento conoscendo anche quella che è la materia che trattiamo ossia in questo caso intrattenimento con viare quindi quello che vediamo adesso sono semplicemente tutte le misure chiaramente la sintesi delle disponibili in italia al momento per poter fare imprenditoria con la finanza agevolata ossia con capitali a fondo verduto che non dovrete restituire partiamo con quelli che ho selezionato per il gaming e quindi vediamo velocemente gli incentivi per con il fondo perduto per chi volesse entrare in questo mondo investire grazie a questo vantaggio sleale ok quello che vediamo adesso che cosa sono quindi i principali incentivi nazionali quante cosa finanziano i prerequisiti necessari e come possiamo supportarvi noi partiamo subito con una misura che sta partendo adesso infatti il 19 maggio è possibile presentare le domande e si chiama fondo impresa femminile che cosa finanzia finanzia fino a 400 mila euro di cui il fondo perduto è un po' variegato diciamo va fino al 90 per cento del finanziamento chi di voi lo sapeva nessuno messi ok quindi probabilmente quello che stiamo per fare oggi sarà molto utile allora vediamo subito qual è la differenza di questa misura fa una differenza sostanziale tra quelle che sono le aziende che devono costituirsi o quelle che hanno meno di 12 mesi da quelle che hanno più di 12 mesi entrambe possono essere finanziate ma le neo società quelle che devono essere costituite o quelle che hanno meno di 12 mesi possono avere fino a 250 mila euro con il 50 per cento a fondo perduto se al di sotto 300 mila euro addirittura fino al 90 se la società invece ha più di 12 mesi possiamo avere anche fino a 400 mila euro di cui l'ottanta per cento integralmente finanziato e il 50 per cento a fondo perduto sembra interessante no? ok questa è una sono misure che come dicevo prima a partire dall'otto maggio sono delle cioè si può accedere a questi fondi? sì al momento ci sono 40 milioni di euro disponibili in quattro anni ce ne saranno ben 200 di milioni di esposizione e il prossimo anno ce ne saranno 150 e per il prossimo altre 150 totale dell'operazione saranno 400 milioni di euro non è poco ragazzi ed è una bella opportunità soprattutto se vogliamo costituire una società la facciamo ad hoc mettendoci dentro risorse principalmente donne e abbiamo risolto possono essere ditte costituite da una sola donna e che ricevere fino a 250 mila euro possono essere società costituite da oltre 12 mesi e arrivare fino a 400 mila euro cosa finanzia? nel 99 per cento delle misure che adesso andrò a elencare si finanzia principalmente l'imponibile cioè l'investimento mentre l'iva è sempre a carico del richiedente ma mi sembra poco perché tanto comunque noi ce la possiamo sempre recuperare è vero che su 400 mila euro stiamo parlando di oltre 80 mila euro però è vero che ce ne danno 400 quindi non è male come idea vado veloce non vado nel dettaglio perché chiaramente vi voglio dare solamente delle pillole c'è questa misura resto a sud chi di voi è nel centro sud italia su con la manina benissimo questa misura è abbastanza nota porta nelle casse dei richiedenti fino a 200 mila euro con quattro soci e qui abbiamo il 50 per cento a fondo perduto e la differenza a tasso zero quindi dobbiamo restituire l'importo che dovremo rimborsare in otto anni senza alcun interesse l'erogazione avviene attraverso un istituto bancario convenzionato e la richiesta si fa sempre a sportello quindi si presenta la domanda si sostiene un colloquio se per esempio si fa con organizzazioni tipo la nostra vi prepariamo oltre che il progetto anche al colloquio che non è poco perché chiaramente sappiamo quelle che sono le principali domande che fanno è evidente che c'è bisogno di un po di formazione bisogna imparare il progetto per essere bisogna essere molto motivati ok tutto chiaro anche questa considerate per esempio quali quanti sono i fondi disponibili per questa misura che è stata diciamo è entrata in adozione del 21 giugno 2017 con un plafond di circa un miliardo 250 milioni oggi sono disponibili circa 850 milioni quindi ce ne sono ancora di soldi su questa misura ma tanto quando sarà diciamo terminato insomma è una di quelle misure che sarà sempre rimpinguata a quanto pare un'altra misura molto interessante che secondo me è adattissima a questo progetto visto che si parla di un investimento che noi definiamo ai ticket è oltre nove imprese a tasso zero qui arriviamo fino a tre milioni di euro di finanziamento per imprese che si sono che sono costituite da tre e non più di cinque anni mentre per le neocostituite riusciamo ad arrivare alla scarsa cifra di un milione e mezzo che non è male no qua non ci sono interessi sull'operazione e abbiamo un fondo perduto al massimo del 20 per cento finanzia tutto quello che dobbiamo fare noi quindi dalla ristrutturazione dell'immobile circa il 30 per cento dell'investimento possiamo andarlo a recuperare da qua immaginate un locale deve essere ristrutturato di non so per esempio se fosse un investimento facciamo conto di 100 mila euro possiamo investire in ristrutturazione 30 mila euro che questo è un po' l'idea possiamo finanziare tutto quelli che sono software hardware arredamenti anche quello che riguarda per esempio il primo anno di affitti del locale e che non è poco perché considerate che il rimborso le somme arriva comincia sempre dopo 24 mesi quindi i primi due anni incassate solo ok e poi cominciamo a pagare non è male non è male considerate che io ho lanciato un franchising due anni fa al momento circa 20 aperture il 90 per cento delle aperture le abbiamo fatte tutte finanziare noi e loro adesso stanno cominciando a rimborsare il capitale sono tutte aperture da 150 a 200 mila euro tutti con fondo perduto al 50 per cento quindi loro sono andati bene io ho fatto delle vendite di ticket sui miei franchising questa misura on quindi la vediamo vabbè grosso modo è questo è quello che ci siamo detti finanziare il 90 per cento del capitale quindi significa che se io faccio una richiesta di un milione di euro ottengo una garanzia da parte del fondo di garanzia quindi non c'è bisogno che io fornisca garanzie reali ma c'è il fondo del medio credito che garantisce alla banca che io restituirei soldi e se non li restituisco garantirà il fondo e pagherà lui per me e io devo garantire solamente l'iva e la differenza del 10 per cento il finanziamento viene rimborsato poi in dieci anni quindi come moderate in dieci anni qua abbiamo scritto chi sono i beneficiari di on in questa in questa misura si vanno a premiare i giovani e le donne ok donne senza limitità i giovani entro 35 anni ultima misura che tratto sempre per darvi un'idea veloce di quelle che sono appunto le disponibilità siccome sono un tutor dell'ente nazionale micro credito non potevo che parlare anche di questo micro credito è un finanziamento di piccolo importo perché ve ne parlo visto che l'investimento che eventualmente vi apprezzeste a fare è ben di ben altra cifra ve lo dico subito intanto vi dico che cosa il micro credito è un finanziamento garantito anche questo caso dallo stato quindi se non ho garanzie personali o il mio essendo una start up non ho grandi possibilità di dimostrare di avere garanzie reali non ci interessa a noi per erogare perché c'è sempre il fondo di garanzia del medio credito che ci va a dare una mano e ci dice io vi garantisco l'ottanta per cento per il venti per cento mettiti una firma e siamo a posto nella maggior parte dei casi funziona così il finanziamento garantisce l'ottanta fino a cinquanta mila euro ma con l'ultima legge di bilancio praticamente è stato innalzato questo limite a settantacinque mila mila euro e per l'SRL anche fino a centomila euro perché interessante ve lo dico subito perché questo finanziamento non è che cosa come lo utilizziamo lo utilizziamo a supporto o a completamento degli altri abbiamo detto che l'IVA nella maggior parte dei casi è diciamo a carico del richiedente se non abbiamo l'IVA utilizziamo micro credito quindi abbiniamo le due misure e con quest'altra qui ci andiamo a prendere l'IVA ok quindi si possono fare vari abbinamenti ovviamente c'è bisogno di conoscere un po' di dinamiche e avere uno studio esperto che vi segue ed eccone uno per esempio il nostro SP studios e noi ci occupiamo di questo quindi finanza agevolata digitalizzazione noi siamo in grado di fare anche di preparare un progetto in sette quindici giorni perché tutto quello che riguarda anche i documenti di identità digitale eccetera facciamo tutto all'interno quindi siamo molto veloci ok se qualcuno vuole qualche informazione riguardo salvadorepapa.com è il sito trovate bandi misure aggiornate eccetera se c'è qualcosa che vi interessa potete fare una richiesta di lì tanto sicuramente qualcuno del mio team vi potrà dare informazioni e consulenze gratuite grazie